Come accade che due sconosciuti si incontrino? C'è una poesia di uno scrittore venezuelano che comincia così. La terra girò per renderci più vicini. Girò sul suo ass e su di noi finché finalmente ci ricongiunse in questo sogno. La terra girò per renderci più vicini. 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 La terra girò per renderci più vicini.